Se avete cliccato questo video suppongo che anche a voi piaccia la fotografia notturna. Che cosa c'è di tanto bello nel riuscire a realizzare foto perfette durante le ore notturne? Per quanto mi riguarda sicuramente è una bella sensazione quella di riuscire a catturare correttamente un'immagine anche quando c'è poca luce. Ho già una serie di video dedicati a come catturare correttamente delle fotografie durante le ore notturne o comunque quando c'è poca luce, ma nel video di oggi daremo per scontata tutta quella parte e andremo a vedere come possiamo migliorare le nostre fotografie notturne utilizzando dei filtri particolari. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per lavoro ormai da tanti anni. Su questo canale condivido le mie esperienze lavorative e non in maniera tale che tutti quanti possiamo trarne qualche insegnamento. Nel corso del video di oggi vado a parlarvi in particolare di alcuni filtri che ho utilizzato di recente per migliorare le mie fotografie notturne. Parliamo in particolare di filtri che mi sono stati mandati da KNF Concept, quindi questo è un video collaborazione. Troverete ovviamente tutti i link in descrizione e nel primo commento e ci sono anche degli sconti se a qualcuno dovessero interessare filtri o treppiedi di cui abbiamo già parlato in altri video. Andiamo innanzitutto a fare una sorta di mega ripassone. Fotografia di notte che cosa significa? Significa che c'è meno luce. Quindi quando c'è meno luce che cosa facciamo? Dobbiamo probabilmente alzare i valori ISO, che è una cosa che possiamo anche fare ma introduce del rumore nelle nostre immagini e diminuisce la gamma dinamica. Questa è una cosa che noi assolutamente non vogliamo. Per evitare questa cosa utilizziamo un treppiede. E c'è anche il treppiede di KNF Concept che ho già recensito, vi consiglio di andarvi a recuperare anche quello perché è un ottimo treppiede. Dunque l'ausilio del treppiede che cosa ci permette di fare? Ci permette di mettere la macchina ferma, quindi al di là del fatto che componiamo meglio e magari siamo più tranquilli e ce la giochiamo meglio con i filtri perché abbiamo le mani libere se la macchina è sul treppiede. Una volta che noi abbiamo messo la macchina sul treppiede possiamo decidere liberamente come utilizzare i tempi, quindi non dobbiamo più scattare a un centoventicinquesimo, un sessantesimo di secondo per evitare il mosso. Possiamo scattare a venti secondi di posa, a un minuto di posa se abbiamo l'intervallometro necessario a prolungare i tempi di scatto. Quindi possiamo avere potenzialmente tutta la luce che vogliamo perché allungando i tempi di posa possiamo fare uno scatto più lungo che quindi cattura più informazioni. Questo ci permette di tenere gli isobassi e anche di chiudere il diaframma perché dovete sapere che non c'è niente di più figo durante uno scatto notturno che chiudere il diaframma. Questo trasformerà i punti luce dei lampioni in stelline che sono molto molto appaganti da vedere. Ora, nel corso del video di oggi vi vado a far vedere due filtri, uno di cui abbiamo già in parte parlato e l'altro invece che vediamo oggi per la prima volta. Sono due filtri appunto di KNF Concept che hanno l'effetto di trasformare i punti luce dei lampioni in maniera diversa. Come potete vedere nelle immagini che vi mostro abbiamo la possibilità di utilizzare un filtro che trasforma i punti luce in stelline da 4 o 8 punte, il che è carino perché significa che possiamo avere un effetto stelline molto più accentuato, molto più invasivo. Ovviamente non dobbiamo abusarne, non possiamo usarlo sempre, però uno scatto ogni tanto fatto con questo filtro secondo me è molto carino e può dare un qualcosa di nuovo, può rinnovare il look anche di una zona che conosciamo molto bene. Io qui ho fotografato dei posti che conosco bene vivendo a Milano, li ho fotografati con questi filtri e la foto assume un aspetto più fresco perché ho già fotografato queste location tante volte, ma rifotografarle in questo modo ti ritira fuori un po' il piacere di riscoprire quella zona. Faccio una breve interruzione per ricordarvi qualora non l'aveste già fatto di cliccare il bottone qui sotto e iscrivervi al canale. Molti di voi l'hanno già fatto, molti di voi non l'hanno ancora fatto e guardano tutti i miei contenuti e commentano anche senza essere iscritti. Questo è un peccato, io vi consiglio di allungare un pollice qui sotto. Andiamo invece a vedere il secondo filtro come si comporta e questo devo dire l'ho trovato più complesso da usare perché ti tira fuori delle forme che sono abbastanza complicate da leggere. Quindi tenete conto che questi filtri si utilizzano anche ruotandoli, quindi io ruotando il filtro posso variare la disposizione dei fasci luminosi all'interno del mio fotogramma. Nel caso della stella a 8-4 punte è molto semplice perché io lo giro, vedo subito dove si posizionano i fasci e così sono tranquillo, scatto la mia foto. Nel caso di questo secondo filtro, ovviamente ci sono i link in descrizione con anche le descrizioni e tutto quanto, e nel caso di questo secondo filtro l'ho trovato più complesso da usare perché queste forme sono irregolari. Questo può dare vita a delle forme, a dei colori molto particolari e può tirarci fuori anche delle caratteristiche molto creative nelle nostre fotografie, può aiutarci a essere più creativi, a inventarci qualcosa di nuovo, a disporre le luci in maniera diciamo artistica. Io l'ho trovato un po' più complicato da usare anche se devo dire che soprattutto per effetti astratti come quello che vi faccio vedere adesso, un filtro di questo tipo si presta particolarmente bene, quindi se vogliamo realizzare qualcosa di più onirico, qualcosa di meno legato alla realtà di tutti i giorni, questo potrebbe essere un filtro molto divertente da usare. Ovviamente io l'ho utilizzato di notte per fare sostanzialmente paesaggio urbano, però tenete conto che potete utilizzare questi filtri in diversi contesti. Questi filtri funzionano anche se stiamo inquadrando la luce del sole, per esempio. Si vedono di meno i fasci di luce perché ovviamente se è buio sono più evidenti, però questi filtri possiamo utilizzarli anche di giorno e possiamo utilizzarli anche per esempio su uno specchio d'acqua e si vedono le stelline anche sui punti luce di uno specchio d'acqua, quindi possiamo tirar fuori delle cose creative e molto carine. Questa secondo me è la naturale evoluzione della fotografia notturna perché obiettivamente se avete seguito tutti i miei video precedenti e a questo proposito aspettate la fine del video perché comparirà un video in sovraimpressione che vi consiglio di cliccare perché è un approfondimento sempre sulla fotografia notturna per chi fosse un po' acerbo da questo punto di vista. Una volta che noi abbiamo padroneggiato tutti gli aspetti inerenti alla fotografia notturna non ci resta altro da fare che andare fuori e fotografare le varie scene. Una volta che l'abbiamo fatto diciamo che quella scena per noi è un po' come se fosse segnata, l'abbiamo scattata e basta così. Invece con questi filtri secondo me noi possiamo andare a riscoprire anche delle zone che abbiamo già fotografato e fotografarle in una maniera diversa perché comunque il risultato esce completamente diverso, non sono nemmeno paragonabili. Questi effetti di luce sono così pervasivi che le due foto non avranno praticamente niente in comune, saranno foto proprio completamente diverse e questo ci può aiutare da un lato ad arricchire il nostro portfolio ma dall'altro soprattutto a uscire e divertirci anche senza fare chilometri e chilometri per visitare zone lontane. Possiamo tornare in location che abbiamo già fotografato e riscoprirle grazie all'ausilio di questi filtri che io personalmente ho trovato molto divertenti e se capiteranno nuove occasioni e capiteranno sicuramente in cui li userò nuovamente magari vi farò un contenuto di aggiornamento e ne riparleremo. A questo punto amici fatemi sapere come sempre voi che cosa ne pensate, io vi consiglio anche di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, vi ricordo che io risponderò alle vostre domande più interessanti con degli shorts verticali, quindi se vi iscrivete non andate poi a perdervele. Io e KNF Concept vi ringraziamo per aver passato un po' del vostro tempo con noi e vi diamo come sempre appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!